Please turn your volume up. Celebriamo il talento di Gioachino Rossini, compositore e musicista di immenso valore capace di innovare il linguaggio musicale. Collega le cuffie immergiti nelle atmosfere di capolavori immortali. Si apre così il sito del Comune di Pesaro che ha vinto il 19 barra o Interactive Key Award nella categoria Media Educational. Pia premiata la strategia di comunicazione digitale messa in atto per le celebrazioni rossiniane www.gioachinorossini.it. Una comunicazione che contribuisce a promuovere Rossini e la sua città natale, in Italia e nel mondo. La manifestazione intende stimolare la creatività e l'innovazione tecnologica della comunicazione online per migliorarne efficacia, qualità tecnica ed estetica e favorire l'affermazione di un made in Italy del web. Accolto nel segno il progetto Rossini in chiave pop, la divulgazione culturale nell'era del digitale era stato presentato a febbraio al MIBAT al ministro Dario Franceschini. A ritirare il riconoscimento al nuovo Auditorium ULN di Milano, l'assessore alla bellezza del Comune Daniele Vimini per il Comitato delle celebrazioni rossiniane, e Christian della Chiara coordinatore del progetto insieme a tre rappresentati di WebSolute che ha realizzato il sito. Mercoledì 16 maggio 2018, ultimo aggiornamento, 15 e 12. Mercoledì 16 maggio 2018, ultimo aggiornamento, 15 e 12. Mercoledì 16 maggio 2018, ultimo aggiornamento, 15 e 12.